Shopping, arte e cultura. ConfCommercio Rovigo, con il contributo della Camera di Commercio di Venezia Rovigo, presenta le nuove iniziative di riqualificazione urbana a sostegno del commercio del Centro Storico di Rovigo e della cultura diffusa in tutta la provincia. Istituzioni ed associazioni si trovano già da anni ad affrontare il problema dello svuotamento dei centri storici, dovuto alla crisi economica e dalla conseguente cessazione di molte attività commerciali, a svantaggio dell'aspetto delle città, che perdono la loro capacità attrattiva, innescando un circolo vizioso per cui vanno individuati dei rimedi. Catti Imprese ConfCommercio Rovigo, grazie al bando promosso dalla Camera di Commercio Venezia Rovigo la scorsa primavera, ha avviato un progetto pilota che intende prima di tutto implementare il lavoro di squadra tra attori pubblici e privati, tutti ugualmente chiamati ad individuare nuove strategie che sono sempre frutto di diverse competenze messe a fattor comune. E proprio con questo spirito ha coinvolto, in questa fase iniziale orientata ad un successivo sviluppo, le istituzioni di cinque comuni, Rovigo, Adria, Fratta Polesine, Badia Polesine, Lendinara, condividendo due nuove iniziative presentate questa mattina nel Salone d'Onore di Palazzo Nodari, alla presenza del Sindaco di Rovigo Edoardo Gaffeo e dell'Assessore alla Cultura Roberto Tovo, oltre ai rappresentanti degli altri comuni coinvolti. Riqualificare i centri storici significa mettere un abito nuovo. Con queste parole il Presidente di ConfCommercio Rovigo, Stefano Pattaro, presenta la prima iniziativa che si propone di abbellire le vetrine dei negozi sfitti ubicati nei cinque comuni, uniti dal desiderio di preservare il decoro urbano, non solo sollecitando i proprietari nella cura delle loro proprietà, ma facendo diventare le vetrine sfitte veicolo di bellezza. E quale bellezza può essere più reale delle ricchezze storico-artistiche diffuse nella nostra provincia? Con il supporto tecnico di Rovigo Convention and Visitors Bureau, che da cinque anni promuove Rovigo come destinazione turistica vasta, è stato ideato un poster che, come un quadro di Mondrian, mette in mostra palazzi, dipinti, paesaggi, eventi sportivi, eccellenze produttive ed artigianali che si alternano ai famosi tasselli colorati del pittore olandese, esortando chi guarda a condividere il motto, l'arte è in ogni luogo. Un'azione, precisa il presidente Patero, che da un lato intende preservare il decoro urbano e abbellire le vetrine, riempiendo un vuoto percepito con l'arte, la cultura, l'ambiente, e dall'altro spera di sollecitare residenti e turisti a spalancare gli occhi per diventare più consapevoli ed orgogliosi delle ricchezze esistenti anche nelle piccole città. ConfCommercio Rovigo e le cinque amministrazioni, accomunate dal medesimo intento, esortano i proprietari dei negozi sfitti a segnalare la loro disponibilità ad appendere il manifesto con l'auspicio che possa essere anche un mezzo per richiamare l'avvio di prossime attività. La seconda iniziativa si chiama Fai Shopping e Vinci Cultura e dal 14 al 28 ottobre intende supportare il commercio del centro di Rovigo con una manifestazione a premio, gratuita per i commercianti aderenti, che consente a chi effettua nuovi acquisti di compilare una cartolina consegnata dal negoziante e di ricevere direttamente premi culturali, ossia dei coupon validi per visitare la mostra di Palazzo Roverella e la collazione Balzan di Badia Polesine, i musei archeologici di Rovigo, Adria e Fratta Polesine, Villa Badoer, di partecipare agli incontri tematici o visite speciali di Palazzo Roverella e Accademia dei Concordi, di partecipare agli spettacoli del Teatro Sociale e del Teatro Ballarin di Lendinara, oltre ai film in programma al Cinecolonne.